Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Lasciate un like e iscrivetevi al canale! In questo video parleremo di un campione che poteva diventare il calciatore più forte di tutti i tempi. Sto parlando di Adriano Leite Ribeiro, comunemente conosciuto come l'imperatore. Citeremo quindi gran parte di questo video, l'Inter, la sua prima squadra, e poi citeremo la Fiorentina, il Parma e il Brasile. A questo punto direi di iniziare 3, 2, 1... A questo punto direi di iniziare 3, 2, 1... A questo punto direi di iniziare 3, 2, 1... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti